Buonasera e un saluto affettuoso ai pellegrini e ai fedeli che si sono riuniti nella chiesa di Santa Maria delle Grazie in San Giovanni Rotondo per la preghiera del Rosario e un saluto speciale a tutti i giovani collegati mediante i social e presenti sulla piattaforma Zoom per questo momento di preghiera insieme a Maria, la madre di Gesù, la custode del focolare ecclesiale. Questa sera il tema dell'ammunizione di San Francesco, l'ammunizione diciannovesima, ci riporta alla fedeltà, il tema è rimanere fedeli a Dio. Nella ammunizione Francesco proclama beato, felice, quel servo che anche quando viene posto in alto e viene lodato dagli altri non si considera migliore. Francesco ritiene beato quel servo che non si pone in alto di sua volontà e che desidera mettersi sotto i piedi degli altri. Ecco è il servo umile, come dice la parola che ha a che fare con humus, terra, che non si pone al di sopra degli altri, che non vuole prevaricare, che non si impone sugli altri, ma che impara a sottostare, cioè ad assumere il peso degli altri, ad assumere il peso della vita, della storia, con i suoi imprevisti, con i suoi inediti e impara così a rimanere fedele al suo impegno nel mondo, al suo posto nel mondo, alla sua vocazione nella storia, nella storia della Chiesa. Rimanere fedele non è frutto di uno sforzo ascetico, né frutto di quelle fatiche che poteva compiere soltanto un semidio. Rimanere fedeli è frutto di una relazione di qualità, di un'alleanza che non viene vissuta in un modo puntuale, cioè una volta e basta, in un momento ben preciso, ma un'alleanza che viene continuamente nutrita, curata, potata, coltivata. Rimanere fedeli è espressione di una vita che davvero fruttifica in Dio, perché vive nella grazia del servizio, nella grazia del dono. E nel di Giovanni Gesù si presenta proprio così, nel quadro dell'ultima cena e nel quadro del saluto che fa i suoi discepoli attraverso quello straordinario discorso da Dio, testamento spirituale di Gesù. Gesù sta per ritornare al Padre dopo essere uscito dal Padre e durante l'ultima cena pone un gesto, compie un gesto che è per lui un esempio da lasciare ai suoi. Lava i piedi dei suoi discepoli, passa a servirli, venendo a contatto con ciò che tocca il suolo, tocca la sporcizia della terra. Cristo serve gli uomini, si mette a servizio, si prende cura dei suoi sin dalle fondamenta, dai piedi, dalle radici e poi chiede ai suoi di fare altrettanto, di consagrarsi a una vita nel segno del dono, del servizio. E ancora in un'altra splendida pagina del Vangelo, quando i suoi discepoli mentre salgono a Gerusalemme con loro avranno dei sogni di gloria, vogliono sedere a destra e a sinistra nel regno. E Gesù spiega che i capi delle nazioni governano i loro popoli, esercitano il potere, ma nella comunità dei discepoli, nella chiesa di Cristo, nella comunione dei fratelli e delle sorelle, nella fede, non c'è esercizio di potere, ma c'è il potere del servizio, del prendersi cura gli uni degli altri. Io sto in mezzo a voi come colui che serve e li invito a ciascuno di noi a mettersi a servizio, gli uni degli altri. E il ritornello, il leitmotiv della vita consagrata. Ogni persona consagrata sa che la sua vita fruttifica, si umanizza, fiorisce e quindi potrà divinizzarsi, cioè manifestare davvero in pienezza la vita di Dio nella misura in cui la sua sarà una vita nel segno del dono, alla maniera di Cristo, una vita a braccia aperte come Cristo sulla croce. Sarà una vita di perseveranza, di fedeltà, che richiamerà lo Stabat di Maria ai piedi della croce. Stare, esserci, rimanere, restare saldo, anche nell'ora della prova, anche nell'ora del buio, e custodire nel cuore il sole di un'alleanza irrevocabile, irreversibile, inossidabile. Chiediamo questa sera al Signore per intercessione di San Francesco e per le mani di Maria, donna della perseveranza, di essere ciascuno di noi fedeli al proprio impegno nel mondo, al proprio impegno nella Chiesa, al proprio servizio d'amore, perché la nostra vita si impregni delle fragranze del dono di Cristo. Buona serata a tutti.